Saluto e invito sul palco Diego Di Masi, che parlerà... Che parlerà. Che parlerò. Prego. Però prima di parlare vi voglio chiedere una cortesia. Alzatevi in piedi perché io non ce la faccio più a star seduto. Abbiamo parlato di corpi, di cose. Vi siete presentati un attimo voi con i vostri vicini? Sapete chi è il vostro vicino? Dai, scambiatevi un segno di pace. Esatto. Meglio? Forse i corpi avevano bisogno anche di essere un attimo rimessi in gioco. Perfetto. Questi non me li contate nei minuti però. Questo era riscaldamento. Perfetto. Grazie, potete accomodarvi. Eccolo lì. Di cosa proverò a parlarvi oggi? Innanzitutto della sfida che mi ha chiesto questo talk. Una sfida che da un certo punto di vista era sì legata al tempo. Questi 18 minuti mi hanno fatto entrare un'ansia da performance. Però è vero che ti dà un frame e quindi ti aiuta anche a mettere in ordine le idee. E l'ansia era anche dato dal monito che ho ricevuto dall'agenzia. Mi raccomando ti filmiamo, non dire niente di cui potresti pentirti tra dieci anni. Allora, non è stato neanche questo quello che mi ha messo più in imbarazzo. Quello che mi ha messo in imbarazzo in realtà è stata questa idea di dover parlare della mia esperienza, cioè del lavoro che faccio. Mi mette in imbarazzo parlarne, ma mi piace molto quello che faccio. Quello di cui mi occupo è ricerca. E questo di solito quando uno dice attiva degli interessi nell'interlocutore, perché si apre un immaginario sulla ricerca. Poi dico che faccio ricerca in ambito educativo e la risposta è una interessante. Tipo quelle cose che quando ero adolescente mi dicevano ah sì, simpatico, no? Quindi ti sdrenava qualsiasi possibilità di interlocuzione. Però ho pensato qual è la parola che forse oggi può essere utile dentro le mie pratiche di ricerca. E la parola che ho scelto è curriculum. Prima data ci parlava del rapporto tra formale e informale. Ecco, secondo me ogni pratica educativa, ogni azione educativa ha al centro il curriculum. Il curriculum lo possiamo guardare attraverso come selezioniamo delle conoscenze, attraverso le pratiche. Ieri per esempio eravamo qui, anche questo spazio ha un suo curriculum educativo. Andavamo in giro, ci parlavano di valori, di pace, però a un certo punto ne abbiamo chiesto sì, vabbè, ma tu come le vende le decisioni? Sì, vabbè, ma le donne ci sono dentro le vostre assemblee? Cioè non ci bastavano un appello ai principi. ci servivano ad analizzare delle pratiche per vedere se c'era una coerenza tra quello che noi dichiariamo e poi quello che facciamo. Ecco, la ricerca nell'ambito curriculare, secondo me, ha anche questo scopo qui. Quello di andare a vedere un po' nelle pratiche professionali quali sono i modelli, i valori che veicoliamo. Per esempio, appunto, dicevo, la selezione delle conoscenze. La selezione non è neutra. Se scegliamo di fare un argomento, di approfondire un argomento piuttosto che un altro, abbiamo in mente uno scenario. Se, per esempio, costruiamo uno spazio in un certo modo, con un cerchio, abbiamo in mente di lavorare un po' forse sull'interazione tra di noi, o l'abbiamo fatto ieri sera, mentre oggi è frontale e quindi abbiamo un altro rapporto con i saperi. Il curriculum ci serve per capire se stiamo riproducendo diseguaglianze o se stiamo lavorando, per esempio, nella riduzione delle diseguaglianze. E il curriculum forma anche i nostri pensieri. Il figlio di Giselle ha la parola competenza e gli è venuto un coccolone, perché lo ricorda, diciamo, probabilmente la sua esperienza di scolarizzazione, in cui il curriculum ha fatto sì che si creasse un immaginario sull'idea di competenza, che quindi lo associava a noioso. Ecco, per me la ricerca è un po' questa idea di essere dietro le quinte. Mi piaceva questa immagine, questa metafora del dietro le quinte, perché da un certo punto di vista, attraverso la ricerca, come funzione, quindi la possiamo fare all'università, ma anche in altri luoghi, intanto ci pone in una prospettiva inusuale. Poi ci fa scoprire i trucchi del mestiere, gli effetti speciali, come succedono delle cose in scena. Ci permette di fare delle ipotesi a partire da degli oggetti, da dei vestiti che magari hai dentro una cassa panca, dietro allo scenario. E ci fa provare l'emozione che ho provato poco fa, quello della soglia, sappiamo esattamente qual è la soglia, quelle soglia che possiamo passare o non passare. ci fa essere parte di una compagnia, anche se poi non va in scena, ma soprattutto si impara che la scena è molto più grande del semplice parcoscenico. Quindi ci sono degli attori, ci sono degli spettatori, c'è un contesto, e questo credo sia molto importante per le cose che vi dirò tra poco. Quindi, avendo fatto questa confidenza sul mio imbarazzo rispetto alla ricerca educativa, immaginatevi il sollievo quando ho visto in una nota trasmissione televisiva che il popolo del web ha dichiarato che per ripartire, per ripartenza universale, doveva essere l'istruzione. Ho detto, perfetto, questo è il nostro ambito. E quindi sono andato un po' a riprendere dei libri che avevo e ho deciso di ripartire proprio da questo che mi piace moltissimo e che ha anche un po' ispirato il mio intervento. L'insegnamento come attività sovversiva. Mi piace questa parola, sovversivo, per almeno tre ragioni. Due sono sulla parola, una è proprio su questo libro. Il primo è perché quando diciamo sovversivo, in qualche modo stiamo già dicendo che può esserci un cambiamento. Non immagineremo nessuna sovversione senza immaginare un cambiamento. La seconda ci invita a prendere posizione. Io credo che ogni tempo, ma forse anche in questi tempi in cui viviamo, sia necessario prendere una posizione e dire da quale punto di vista noi guardiamo le cose. Schierarsi. La scuola, l'educazione in generale, deve essere un contraltare a quello che accade nella società. C'era chi ha parlato anche di una scuola controciclica, cioè che si ha interpreti di valori che altre istituzioni non considerano più tali. E poi un'altra cosa interessante è che questo libro è stato scritto nel 69 negli Stati Uniti e poi è stato tradotto in Italia nel 73, quindi siamo in uno scenario, in una storia anche mondiale, in cui si stavano un po' mettendo in discussione i rapporti tradizionali, anche dentro la scuola. Quindi si stavano modificando il rapporto con la conoscenza, il rapporto col potere, il rapporto con l'autorità. E soprattutto questo libro mette al centro alcune pratiche che si basano sull'esperienza. Prima diceva Carmine che dobbiamo avere un impatto. Un'esperienza, dice Dewey, è autentica quando costruisce già le condizioni per l'esperienza successiva. Quindi non si tratta semplicemente di impatto, si tratta proprio di dare continuità a queste esperienze educative. Quindi noi come educatori dobbiamo, quando pensiamo alle nostre attività che facciamo con i giovani, con i meno giovani, dobbiamo già pensare qual è l'attività successiva, perché quella che stiamo facendo è stata modificata da quella che l'ha preceduta e poi modificherà quella successiva. E allo stesso tempo ci dice, le esperienze hanno senso, ecco perché la difficoltà anche di Dada di definirsi come insegnante, hanno senso se interagiscono con l'ambiente, se creano interazione tra l'individuo e l'ambiente che lo circonda. Questa idea di interazione mi ha fatto venire in mente la Montessori. Questo è un'anteprima di un fumetto che stiamo quasi terminando, dedicato alla Montessori, dentro una collana che stiamo facendo con un collega, Alessio Surian e Silvio Boselli, sulle pratiche educative raccontate attraverso la graphic novel. La Montessori, quando entra giovanissima nell'ospedale psichiatrico di Santa Maria della Pietà, fa una scoperta. Capisce che probabilmente il ritardo cognitivo di molti di quei bambini che erano reclusi in un ospedale psichiatrico della fine dell'Ottocento, quindi mi riesco a immaginare in quali condizioni, era dovuto proprio alla deprivazione sensoriale nella quale vivevano questi bambini. Quindi, e lei ci dice il problema del lavorare con questi bambini era prima pedagogico che medico. E questo ci permette di dire che noi impariamo perché il nostro ambiente è stato organizzato in modo tale da permettere l'apprendimento. E probabilmente questi due signori lo sapevano molto bene. Li avete riconosciuti? Quello è Don Milani. L'altro? Qualcuno forse l'ha detto? No, però De Niro Dolce è un altro dei nostri maestri di riferimento. Mario Lodi. Mario Lodi. Mario Lodi e Don Milani. Queste due foto mi piacciono moltissimo perché esprimono esattamente quello che sto cercando di dire da dieci minuti a questa parte. Cioè, come il modo in cui organizziamo una classe influenza le nostre percezioni, le nostre sensazioni e i nostri atteggiamenti. Adoro, insomma, soffermarvi su queste immagini. Quei bambini che lavorano da soli, quindi un compagno che è una risorsa. Un maestro che ha le spalle degli altri allievi. Ragazzi più grandi che insegnano a bambini più piccoli. I muri della classe che documentano le attività che vengono fatte. In una intervista che abbiamo fatto a uno degli allievi di Lodi una volta si disse che c'è stato un giorno in cui Lodi aveva talmente decostruito, ma con un'intenzionalità educativa, lo spazio aveva tolto la pedana. La pedana era diventato un palcoscenico dove i bambini mettevano scena degli spettacoli teatrali. Ha tolto la lavagna e seguiva il metodo Freinet. Quindi il libro lo costruivano insieme. Non c'era bisogno di un libro di testo. Lo costruivano insieme con i bambini. Insomma, in questo spazio, completamente decostruito, nell'intervista che abbiamo fatto a uno dei suoi allievi, ci dice che un giorno il maestro Lodi era assente e quindi, come sarà successo anche nella nostra esperienza, quante volte ci hanno diviso in altre classi. Ecco, lui era in una classe in cui l'avevano preso, l'avevano messo seduto all'ultimo banco e lui ha pensato tutto il giorno di essere stato in punizione. Quindi è interessante come alcune pratiche di organizzazione dell'ambiente di apprendimento promuovono la libertà ed altre invece l'ubbidienza. Questa discussione sembrerebbe qualcosa che riguarda il passato. È un po' vintage questa presentazione. Libri degli anni del 69, foto del 77, degli anni 50. In realtà, proprio pochi mesi fa, sul Fatto Quotidiano, Settis ci ricorda invece che cosa dovrebbe fare la scuola e quindi ci ripropone di nuovo una divisione tra contenuti e metodi, dove ovviamente i contenuti sono più importanti dei metodi, dove ovviamente il sapere, quello detto dall'insegnante, è quello che dobbiamo ascoltare, mentre invece i saperi che possiamo condividere a scuola diventano secondari. E non contenti del contributo di Settis, ci si è messo anche Galli della Loggia, che ha cominciato a scrivere una lettera al Ministro, pubblicata sul Corriere, in cui desiderava la reintroduzione della predella, il famoso che teniva il banco un po' più in alto, alzarsi quando entra l'insegnante, abolire la rappresentanza dei genitori, no all'assemblea degli studenti e poi gire scolastiche in Italia. Prima le gire scolastiche in Italia. Ecco, questa è l'idea, diciamo, che ci riporta un po' indietro nei secoli. No, questa è una miniatura di una lezione universitaria del 1350. È bellissima. Ognuno di noi ha fatto una delle esperienze rappresentate, quella che dorme lì in fondo, quella che guarda fuori dalla finestra. Ecco, nonostante ci siano stati questo tipo di riflessione negli anni 50, 60 e 70, improvvisamente nei nostri tempi si ritorna a desiderare il medioevo. Non solo a scuola, forse anche in altri ambiti della nostra esperienza come società. E non ci sorprende forse sapere che l'Italia è il paese che ha un grande primato. L'80% degli insegnanti usa prevalentemente l'interrogazione in classe come sistema, come pratica di valutazione. Cioè, quello che facciamo è un po' riprodurre quello che Tonucci con questo disegno ci racconta. No, valutiamo meglio quello che ci assomiglia di più. E mi chiedo se questo non ha neanche, se ha qualche conseguenza, qualche effetto anche su quest'altro primato che abbiamo. Siamo il paese con le percezioni meno accurate. Quindi forse le fake news ci condizionano di più di un fatto che abbiamo potuto provare. Eppure la filosofia, ce l'ho insegnato, la questione è sì il sapere, ma la cosa importante è il rapporto col sapere, anzi la qualità del rapporto col sapere. Per questo si chiama filosofia, amore per la sapienza, altrimenti saremmo semplicemente dei sofisti. E su questo termine vorrei provare ad andare velocemente sul progetto di educazione e cittadinanza che prova a trasformare, a non lasciare da sola la scuola in questa sfida di costruire degli ambienti di apprendimento capaci di sviluppare le competenze di cittadinanza. E quindi cosa abbiamo fatto? Siamo andati a vedere delle realtà, quale strumento di partecipazione abbiamo già, che possiamo utilizzare, l'abbiamo trovata nei consigli comunali dei ragazzi, esperienza anche questa iniziata nel 79, strumento per la promozione della partecipazione. Ma se consideriamo la cittadinanza, non solo la conoscenza del funzionamento delle istituzioni, ma anche la pratica e la partecipazione a cosa? Al dialogo, allora abbiamo accompagnato i consigli comunali con dei progetti di filosofia con i bambini, proprio per sviluppare quelle competenze argomentative di ragionamento di cui le nostre società hanno bisogno quando cominciamo a decidere e a partecipare. L'abbiamo svolta in una città a Rovigo, in collaborazione con l'università, il comune di Rovigo, le associazioni, tutte le scuole, e abbiamo ottenuto degli risultati interessanti che spero non vengano dimenticati in questa fase di rapporti anche di un certo tipo con le amministrazioni, non tutte le amministrazioni vedono di buon occhio la partecipazione dei bambini. E quindi questo è un tema che ci pone anche, la partecipazione dei bambini ci fa riflettere anche sulla funzione degli adulti all'interno dei processi democratici. però non vi voglio parlare tanto del progetto quanto di un libro che mi permette di toccare due aspetti che secondo me sono stati importanti nel nostro progetto. Il libro è appena uscito, quindi magari non lo avete letto, si chiama Repubblica Luminosa, scritta da Andres Barba, un autore spagnolo. Racconta di quello che succede in un piccolo paesino, in una città benestante, in un paese tropicale, quando a un certo punto compare una banda di 32 bambini. E' simpatica questa, perché i 32 sono anche i bambini del consiglio comunale dei ragazzi. Cosa succede? Lui ce lo dice subito, questi bambini muoiono e ci raccontano due cose in questo libro, quello che io credo siano due aspetti. Uno, la rimozione di un conflitto, l'altro, l'organizzazione. Che cosa intendo per rimozione del conflitto? Intendo che recuperando il lavoro di Benazayag sull'elogio del conflitto, che le nostre società hanno un po' rimosso l'idea del conflitto, lo abbiamo associato allo scontro, quindi a qualcosa di negativo. E in realtà questa rimozione avviene prevalentemente in due modi. Un modo soft, quando giustifichiamo il non essere d'accordo con non ci siamo capiti. Insomma, pensiamo un po' allo stesso modo, ma che non ci siamo capiti su quello che stavo dicendo. E la cosa invece è una rimozione hard quando neghiamo l'esistenza del nostro avversario, del nostro nemico, e lo vogliamo annientare. Questo annientamento spesso è una pratica violenta. Una pratica violenta. si chiudono i porti, per esempio, si respingono le persone. Queste sono le rimozioni del conflitto, l'incapacità della nostra società di mettere al centro quali sono le diverse questioni. Forse questi bambini un po' ce l'hanno detto. La pratica della philosophy for children, della filosofia con i bambini, gli ha permesso di cambiare idea, di far emergere un punto di vista, di ragionare su delle cose concrete, su dei conflitti reali che avevano all'interno della classe, ma anche all'interno della città. In che modo? Mi prendo due minuti per leggervi questo pezzo che secondo me racconta in maniera molto poetica che cos'è una comunità di ricerca. Tutto intorno c'erano centinaia di frammenti di specchi e vetri incastonati sulle pareti senza una logica apparente. Colli di bottiglie, pezzi di occhiali, lampadine rotte. Questa è la sala dove avevano occupato questi bambini che si nascondevano. La luce che entrava a mezzogiorno in quella cavità avrebbe fatto brillare tutti quegli oggetti in maniera diversa rispetto alla luce delle tre. Il fraseggio composto dai riverbori luminosi doveva cambiare nel corso della giornata e si aveva la sensazione che tutto quell'ordito di vetri colorati fosse stato ideato per creare forme specifiche. In un riflesso sembrava di scorgere un volto, un altro era chiaramente un albero, e poi un cane, e poi una casa. Geronimo, che è uno dei bambini, l'unico superstite di questa banda di bambini, non vuole mai parlare della Sala dei Cristalli, così la chiamavano, questo luogo dove si rifugiavano. Di sfuggita però mi face capire che la realizzazione di quella cattedrale di luce era stata del tutto democratica, non esisteva una mente nell'ombra, bensì un amore neutro e collettivo per il gioco, un piacere. Ecco, credo che quello che accada nella comunità di ricerca quando lavoriamo con i bambini ricreiamo un po' questa Sala dei Cristalli, questa Repubblica Luminosa. Ogni pensiero è un frammento di vetro che contribuisce a comporre le forme sempre nuove, una costruzione di conoscenze in modo collettivo e collaborativo. Questo è un po' il lavoro che abbiamo fatto, e che poi è diventato uno spazio, un giornale, abbiamo un giornale che viene pubblicato in una delle edizioni locali del Gazzettino, e poi abbiamo anche una radio, Radio Ragapolis, che vi invito magari a guardare, a ascoltare, dove mettiamo un po' le nostre inchieste sul territorio. Chiudo davvero con questa riflessione, perché che cosa ci permette di fare la filosofia quando la utilizziamo come pratica educativa? Beh, credo che ce lo dica bene Oliver Sacks in un libro che forse conoscete, L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello. Lui dice, raccontando questo incontro con uno dei suoi pazienti, provai con un ultimo test. Era una giornata ancora fredda, all'inizio di primavera, e io avevo gettato sul divano il soprabito e i guanti. E questo che cos'è? Chiesi sollevando un guanto. Posso esaminarlo? Disse il signor P. Me lo prese in mano e si mise a studiarlo come aveva fatto con le forme geometriche. Una superficie continua, annunciò infine, avvolta su se stessa, dotata, esitò, di cinque estensioni cave, se così si può dire. Sì, dissi cautamente. Lei mi ha fatto una descrizione. Ora mi dica che cos'è. Un qualche contenitore? Sì, dissi. E che cosa potrebbe contenere? Potrebbe contenere il suo contenuto, disse il dottor P con una risata. Ci sono varie possibilità. Potrebbe essere un portamanete, per esempio, per monete di cinque valori diversi oppure interruppi quel folle flusso di parole. Non ha un aspetto familiare? Non crede che potrebbe contenere, fasciare una parte del suo corpo? Nessun lampo di riconoscimento illuminò il suo viso. Ecco, io credo che forse la nostra società soffra dello stesso disturbo del dottor P. Lui non riconosce gli oggetti, noi non riconosciamo più le parole. La pratica filosofica ci permette quindi di recuperare il significato di parole come accoglienza, rispetto, giustizia, libertà e poterle indossare di nuovo per non perdere la nostra umanità. Grazie. Grazie. Grazie mille, Diego Di Masi! Grazie mille, Diego Di Masi!